La linea decorativa Tattoo permette di realizzare una grande varietà di effetti unici e innovativi con una facilità di applicazione mai vista prima, riducendo il numero dei passaggi e il tempo di lavorazione. Venixia Tattoo reinterpreta lo stile e la lucentezza dei classici stucchi per creare effetti del tutto nuovi e attuali con la possibilità di utilizzare in modo creativo un'ampia varietà di strumenti. Andremo ora a realizzare un effetto spatolato con Venixia. Ci occorreranno i prodotti impronte Mid, Venixia e Rivela, il rullo impronte, il frattone impronte o la spatola Flex, il pennello Karma o il pennello Starlight. Per la preparazione del supporto è sufficiente stendere impronte Mid al rullo. Dopo la completa essiccazione del fondo, applichiamo la prima mano di Venixia con il rullo impronte. La seconda mano di Venixia si può applicare dopo 8 ore, stendendo il prodotto con il rullo impronte, per poi lavorarlo a fresco con il frattone impronte, per ottenere l'effetto spatolato. Dopo almeno 8 ore, si può applicare la finitura Rivela in versione neutra o metallizzata, oro o argento, con il pennello Karma o con il pennello Starlight. Ripassando la superficie dopo l'essiccazione di Rivela, con il frattone impronte o con la spatola Flex, si possono esaltare l'effetto estetico e la lucentezza della finitura che dipendono dalla tecnica applicativa e possono essere enfatizzati e personalizzati dall'abilità dell'applicatore. Ed ecco il risultato finito. Un effetto spatolato, dalla superficie lucida e riflettente, realizzato con grande facilità grazie a Venixia Tattoo. Tattoo. Creatività all'infinito.